Aproderà in aula quanto prima il disegno di legge in materia di tutela della panificazione delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, che riunisce due proposte di legge, la numero 93 e la 290, presentate come primi firmatari dai consiglieri regionali Daniela Forma del PD e Luigi Crisponi dei riformatori. Stamattina la quinta commissione del Consiglio regionale sulle attività produttive ha varato la norma unificata. Il disegno di legge va a regolamentare un settore di grande importanza per la storia e l'economia dell'isola. Il settore della panificazione in Sardegna conta 1.089 panifici con circa 4.000 addetti ed un fatturato di 160 milioni di euro all'anno. Anche se rispetto al 2005 c'è stato un progressivo calo, visto che i panifici in attività erano oltre 1.200. La conseguenza è che in molti centri dell'isola non si produce più pane fresco. Tre punti cardine della legge è l'individuazione di requisiti professionali, la definizione di pane fresco venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo e la valorizzazione della filiera del grano sardo, visto che i dati delle associazioni di categoria indicano che oggi si importa l'80% della farina utilizzata nei panifici. La Sardegna infatti produce soprattutto grano duro. Con questa legge, sottolineato in una nota d'alle nella forma, garantiremo maggior tutela per il consumatore e valorizzeremo la professionalità e il lavoro dei tanti panificatori sardi che quotidianamente garantiscono la presenza del pane fresco sulle nostre tavole. A proposta colma una grave lacuna, ha rilavato Luigi Crisponi, a garanzia delle buone produzioni tipiche e del duro lavoro delle imprese panarie, assicurando gli utenti sulla qualità e la trasparenza dei prodotti dell'arte bianca posti sui banchi di vendita.